Fabio Verino è il presidente onorario del Rimini che è qui in Mixzone per commentare questo pareggio che credo faccia molto piacere al Rimini. Assolutamente sì, il primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo tempo abbiamo sofferto un po', ma una partita di grande sofferenza e siamo contenti chiaramente del risultato. Il Pescara non vi ha messo tanto in difficoltà, ok la quantità di gioco nel secondo tempo ma solo il palo di Mero, racconti i fatti. Sì, in realtà non ci sono state tante occasioni da gol, c'è stato quel palo, c'è stata una grande pressione territoriale, ma abbiamo resistito in modo ordinato quindi non abbiamo rischiato più di tanto. Questa è la partita che volevate fare? Beh sì, diciamo che forse il primo tempo ci siamo anche un po' illusi perché penso che il primo tempo abbia giocato meglio il Rimini del Pescara, al secondo tempo siamo stati un po' troppo dietro, non riuscivamo ad uscire dalla nostra area di rigore. Comunque è un ottimo risultato, un pareggio a Pescara, penso che qualunque società sarebbe contenta del risultato.